Allora Pino manca poco all'inizio del campionato, forse ci sarebbe voluto un'altra settimana per preparare meglio questo esordio però poi ci sarà la pausa che vi darà modo anche di completare la preparazione. L'importante però è cercare di partire bene contro Ciampino, sarà difficile ma ce la metterete tutta. Certo, noi abbiamo previsto comunque in virtù del fatto che poi c'è una settimana di sosta subito dopo la prima partita di modulare la preparazione per arrivare in una condizione più che accettabile la prossima settimana e poi avere altri 15 giorni per completare il lavoro di prima partita. Quindi logicamente questi 10 giorni sono dei giorni importanti, comincia la concentrazione e la tensione un po' a salire perché è comunque un debutto importante e vogliamo fare bene. Come vedi il gruppo dopo queste prime settimane di lavoro? Il gruppo si cementerà poco a poco, è logico che quando cominceranno le partite ufficiali il gruppo diventa più forte e se le cose vanno bene sarà un gruppo forte saltato dalle vittorie, se no dobbiamo gestire bene eventualmente qualche passaggio a vuoto ma sappiamo, ci siamo già detti che dobbiamo essere un gruppo granitico insomma perché questo è indispensabile per poter dire la nostra in questo campionato comunque è difficile. Noi oggi partiamo ufficialmente per questa stagione che sarà una stagione sicuramente molto molto difficile, impegnativa però cerchiamo di essere pronti e come ho sempre detto tante volte di centrare quello che è il nostro obiettivo il prima possibile perché essendo partiti molto tardi con la certezza della Serie A è stata veramente un'estate molto difficile.